ogni cinque anni c'è l'usanza alle urne recarsi per votare ognuno l'ha da fa questa crianza scegliere bene da chi farsi amministrare il 12 di giugno il grande giorno di questa spesso triste ricorrenza anch'io ci vado e forse a questo giro non ci troviamo all'ospedale a Zivicienzo quest'anno mi sa ci tocca un'avventura non fare più del voto un triste omaggio qualcuno se ci pensa oh che paura ma tanti si sono armati di coraggio il fatto è questo statemi a sentire proviamo a ragionare senza chiusura in tanti sono in pista per uscire chissà se avranno poi premura si senton forti urla nei quartieri ferma le macchine che non vogliono ascoltare attacca tutti ma sembra solo ieri che il vira stava in giunta comunale di massimo si è già invece detto molto sembra assai incurante del passato rinnega tutto amici liste e scelte ma ancora non ha detto avrò sbagliato di raffaele partito assai in sordina si sente lui la vera alternativa ma amministrare non è far comizi in quella giungla serve adrenalina gira per le case il capacese con lui non è una sua controfigura onesto simpatico per bene roba è che fatto è triste questa cura di settimane ne mancan sempre meno giugno è arrivato il voto è ormai alle porte sono questi momenti decisivi giocar pulito aiuta assai la sorte